Nella ultima puntata ci salutiamo con Tommy! Io so chi vuole veramente bene a questo paese. Sono quelli che l'Italia la vedono da lontano, come quando si guarda la terra dalla luna. Io, se fossi un astronauta e vedessi l'Italia da lassù, avrei subito nostalgia di casa. Più di 70 milioni di nostri connazionali all'estero, molti sono emigrati e si sono portati dietro i loro dialetti dal Veneto, dalla Puglia, dalla Sicilia. E hanno un'idea dell'Italia che vorremmo avere anche noi che siamo ancora qui, senza contare le responsabilità che abbiamo verso chi è in missione di pace. Se veramente vogliamo bene all'Italia, dovremmo anche noi non aver paura e investire in tutto quello che è cultura, scuola, arte, istruzione. O decidiamo di emigrare o andiamo anche noi a fare gli astronauti. Non ce li ame in America, in America, in America e l'Ambè. Non ce li ame in America, in America, in America e l'Ambè. Non ce li ame in America.